Buongiorno amici, bentornati su Longevity Now, Longevity Now FL, chi vi parla come sempre Luigi Fontana, medico specialista e direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic. Affascinante, semplicemente affascinante. Un nuovo studio appena pubblicato su Nature dimostra che la stimolazione gamma sensoriale, tra poco vi racconto di cosa si tratta e come si può praticare, promuove la pulizia del cervello, sì, avete capito bene, promuove la pulizia del cervello. Incredibile, sì, incredibile. Il potere che il suono, un certo tipo, chiamiamo, di musica, può avere su di noi, su delle funzioni importantissime del nostro cervello. Beh, che il sonno profondo, dormire profondamente in fase 3, fosse importante per eliminare i rifiuti, i detriti del metabolismo, dei neuroni, attraverso un'attivazione del sistema glio-linfatico, era ben noto, si sapeva da tanto tempo. Ma oggi abbiamo scoperto un nuovo intervento, o meglio i meccanismi, attraverso cui un intervento adiuvante può aiutarci a mantenere il nostro cervello sano e pulito, e brillante. Infatti, questi nuovi dati, appena pubblicati per l'appunto su Nature, dimostrano che un certo tipo di stimolazione sensoriale, sia auditiva che visiva, può anch'essa contribuire alla rimozione, sì, alla rimozione dei rifiuti tossici cerebrali, cioè delle scorie che si producono ogni giorno attraverso il metabolismo dei nostri neuroni. E questo avviene attraverso l'aumento del flusso del liquido cerebrospinale anche nello stato di veglia. Sì, persino quando siamo svegli, non solo quando dormiamo, ma quando siamo svegli. È come se fosse una pompa questo intervento, che pulisce con il fluido, attraverso questo sistema glio-linfatico, le tossine che si accumulano durante il giorno nel cervello. Per essere un pochettino più specifici, questo nuovo studio appunto dimostra, nel modello Murino, che un'ora al giorno di stimolazione multisensoriale audiovisiva alla frequenza di 40 Hz. Cos'è la frequenza di 40 Hz? Ascoltate. Sentite? Questa è una frequenza di 40 Hz. Ecco, non 8 o 80 Hz, che in questo studio sono stati sperimentati, ma 40 Hz, un'ora al giorno, sia di questi topolini che stavano in questa camera e ascoltavano questo suono a 40 Hz per un'ora, insieme a una luce, una strobo praticamente, che pulsava a 40 Hz, scusate, favoriva l'eliminazione dell'amiloide, cioè di una proteina tossica, come sapete è implicata nella demenza, attivando le vie glio-linfatiche cerebrali indipendentemente da modificazioni dell'architettura del sonno. Cioè, questo effetto non avveniva attraverso una modificazione dell'architettura del sonno. Questa stimolazione, infatti, si è visto che da una parte causa l'aumento dell'influsso di liquido cerebrospinale nel cervello e dall'altra migliora l'efflusso di sostanze tossiche dal liquido interstiziale, quello che circonda le cellule e i neuroni, e questo appunto è stato dimostrato in un modello murino di malattia di Alzheimer. Infatti, i ricercatori hanno dimostrato che questa stimolazione multisessoriale a 40 Hz, sentite di nuovo 40 Hz, muove le scorie fuori dalla scatola cranica, verso la periferia, aumentando l'accumulo di amiloide nei linfonodi cervicali, dei riduttori. Cioè, praticamente, i ricercatori hanno visto che nel modello stimolato con la musica e la stroba a 40 Hz, c'era più beta-amiloide che si era accumulata, che era uscita dal cervello, che si era accumulata nei linfonodi cervicali per poi essere eliminata attraverso le vie renali, via dicendo. Beh, voi sapete che l'invecchiamento, specialmente l'invecchiamento non in salute, causato da scorretti stili di vita, dieta scorretta, mancanza di attività fisica, poco sonno, fumo e alcol, praticamente accelera il processo di invecchiamento e quindi il rischio di malattia di Alzheimer, che sappiamo appunto compromettere l'efficacia di questi sistemi di pulizia gliolinfatica, come attenuando, per esempio, la pulsazione arteriosa, le persone che hanno rischiati di stili di vita attraverso l'infiammazione, l'insunoresistenza, l'iprensionemia, la dislipidemia e tanti altri fattori che vi ho già spiegato, rende le arterie più rigide e quindi non hanno la pulsazione che è necessaria per attivare questo sistema di pompa gliolinfatica. Riducono lo scambio di liquido cerebrospinale e liquido interstiziale della corteccia e diminuiscono il drenaggio linfatico e tutto ciò causa un accumulo di beta-amiloide tau di queste proteine tossiche che causano neuroinfiammazione e quindi aumentano il rischio di demenza. Questo nuovo studio in particolare è importante perché identifica per la prima volta i meccanismi responsabili di questo straordinario effetto di pulizia cerebrale. La stimolazione multisensoriale audiovisiva a 40 Hz aumenta, senti questo suono, aumenta la pulsazione arteriosa, migliora la polarizzazione del canale acquaporina 4 localizzato sulle estremità astrocitiche facilitando così lo scambio tra liquido cerebrospinale e liquido interstiziale. Questa stimolazione multisensoriale audiovisiva a 40 Hz aumenta anche se visto la dilatazione dei vasi linfatici meningi, delle meningi. Si è scoperto che gli interneuroni VIP sono essenziali nel facilitare la pulizia glio-linfatica, ma queste sono tecnicalità che sono appunto per gli addetti al lavoro. Quello che voi dovete ricordarvi è che questo bellissimo studio evidenzia l'importanza di sincronizzare i ritmi neuronali con l'attività delle cellule gliali, le dinamiche vascolari per regolare il flusso del liquido cerebrospinale e quindi l'eliminazione delle sostanze tossiche prodotte dal metabolismo neuronale. Quindi se fondamentalmente ogni giorno o ogni altro giorno vi prendete 20 minuti per fare in una camera tranquilla, per fare della meditazione e magari vi mettete le cuffiette e su YouTube potete trovare un sacco di video in cui troverete gamma, stimulation, 40 Hz, 40 Hz e come in questo video vedete su YouTube potete praticamente fare una meditazione con respirazione profonda, diaframmatica ed ascoltare in cuffia questo suono per 10 massimo 20 minuti e meglio se riuscite anche a trovare un video che ha la stimolazione visiva quindi in una stanza buia oltre a sentire il suono sentite anche, guardate anche queste onde che pulsano a 40 Hz queste onde visive che pulsano a 40 Hz ma comunque se non avete questo va bene anche il suono questo sembrerebbe, potrebbe essere un fattore adiuvante nel aiutare il vostro cervello a sincronizzare i ritmi neuronali e quindi attivare queste dinamiche glio-linfatiche, vascolari pulsatili delle arterie che aumentano lo scambio e la pulizia del cervello attenzione però che questo è uno degli interventi è solo uno degli interventi potenziali che possiamo utilizzare per mantenere sano, giovane e brillante il nostro cervello ma non è una panacea come ho detto un alleato di un sonno profondo perché se non dobbiamo profondamente per 7-8 ore il cervello non è in grado di attivare queste vie glio-linfatiche e quindi 20 minuti non sono sufficienti al giorno se dormiamo solo 4-5 ore-6 ore magari dobbiamo male una dieta sana, bilanciata e un insieme di esercizi fisici per mantenere il nostro metabolismo sano perché altrimenti se accumuliamo grasso viscerale causiamo infiammazione sistemica insonoresistenza disolipidemia ipertensione arteriosa tutti i fattori che vanno ad alterare il sistema vascolare cardiaco, metabolico e quindi incausiamo un'alterazione vascolare, sistemica e metabolica sistemica che fa male per il cervello e non solo per il cervello perché attiva tutti i processi di invecchiamento come vi ho spiegato in altri video e quindi in ultima analisi ricordatevi che non esistono scorciatoie non fatevi ingannare dai venditori di fumo e ce ne sono tantissimi ormai addirittura litigano tra di loro come ho già postato sui social non esistono pillole magiche degli effetti miracolosi perché o queste pillole sono così potenti da rallentare l'invecchiamento per forza devono avere dei danni degli effetti collaterali perché se sono così potenti la finestra farmacologica è molto piccola o altrimenti sono acqua fresca e quindi vi comprate praticamente delle cose molto costose per fare per eliminare delle urine molto costose sto parlando per esempio di resveratrolo di alfa chetogluterato di tutte di queste queste miracolose sostanze che ci vengono sbandierate dai vari venditori di pillole di fumo in un ultimo questo ND Boosters che come vi racconterò in un prossimo video secondo un paper appena pubblicato mi sembra su Nature Medicine or Science da un gruppo della Cleveland Clinic sembrerebbe poter aumentare l'infiammazione vascolare cioè questo paper importante dimostra che questi ND Boosters potrebbero aumentare l'infiammazione vascolare e aumentare quindi il rischio di ictus cerebrale e di infarto del miocardio alla faccia della pillola anti-invecchiamento che ci viene tanto sbandierata quindi amici attenzione attenzione a non farvi ingannare il marketing è forte gli interessi economici sono fortissimi quindi tenete alte le antenne e prima di prendere qualsiasi cosa andate a vedere se ci sono degli studi clinici randomizzati di una certa consistenza che dimostrano innanzitutto la sicurezza la safety e poi l'efficacia se non esistono questi studi non prendete molecole anche se vi dicono che sono dei supplementi perché non sappiamo veramente cosa state ingerendo e quali sono gli effetti e con questo con questo ultimo messaggio e questo importante studio vi saluto questo è come sempre Longevity Now Longevity Now FL il canale della scienza e della filosofia filosofia dal greco amore per la sapienza per la conoscenza il canale della scienza e della filosofia della salute e della longevità come sempre chi vi parla è Luigi Fontana medico specialista direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic di Sydney e del programma Health for Life e un accademico clinico nel dipartimento di endocrinologia del Royal Prince Alfred Hospital di Sydney di Sydney